Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta salata allo yogurt. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Ingredienti sono uova, yogurt bianco, latte, olio di semi di girasole, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, farina di tipo 00, lievito istantaneo per torte salate, prosciutto cotto tagliato a pezzetti, piselli lessati, scamorza, carote tagliata a julienne, zucchina tagliata a julienne, sale, pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova e lo yogurt ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungere il parmigiano, il pecorino, il latte, e l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina, la noce moscata, il pepe, il sale ed il lievito ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungere le carote e le zucchine, ne abbiamo messe da parte una parte. Aggiungere i piselli, il formaggio, il prosciutto ed azionare il bimbi per 30 secondi. anti-orario, velocità 3, spatolando. trasferire il composto in una tortiera da 22 x 22 cm rivestita con carta da forno bagnata e strizzata. decorare con le zucchine e le carote messe da parte. Cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. torta salata allo yogurt. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!